Con il sindaco di Roscinio Armando Mazzei ritorniamo a parlare di problemi legati alla viabilità e di dissesto idrogeologico, insomma un problema quello della viabilità che davvero investe pienamente Roscinio, com'è attualmente la situazione? Investe Roscinio in modo particolare ma investe tutta la zona diciamo così perché ci sono tantissime ordinanze di chiusure, di strade provinciali che non ci permettono agevolmente di raggiungere i plessi ospedalieri, le scuole e quant'altro. Sempre che qualcosa si stia sbloccando per quanto riguarda Roscinio, per la strada provinciale che ci porta nel Vallo di Iane, Corredo Monforte e altre zone, con l'Arcadis siamo arrivati ad una conclusione di un'apertura controllata, stanno facendo gli ultimi monitoraggi, devono iniziare a fare gli ultimi monitoraggi sulla strada provinciale e darci la possibilità di poter accedere, di poter transitare, revocare l'ordinanza intanto e di poter transitare in modo più o meno controllato. E' attenuando quello che sono i disagi, però devo dire che con la stessa franchezza che l'assessorato regionale Cosenza con l'assessore provinciale Pier hanno dato assicurazione che sulla strada provinciale ci sia un importante finanziamento di 940 mila euro. Quello che più preoccupa invece adesso è che tutti gli agricoltori che hanno avuto dei seri danni per quanto riguarda la frana non se ne parla. Le strutture pure pubbliche che sono state interessate, che sono interpoderate e quant'altro non hanno avuto nessun finanziamento. Persone che hanno perso tantissimo e oggi non hanno avuto nessun intennizio, stiamo lavorando per far sì che le ragioni di queste agricolture trovino almeno in parte una piccola soddisfazione. Ma questo grazie soprattutto anche, e si può realizzare tutto questo con voi giornalisti che portate e comunque tenete sempre viva l'attenzione su queste problematiche, la banca di credito cooperativo di Roscigno con il suo direttore che mantengono accesa l'attenzione su questi problemi. Non si può, Sindaco, non fare riferimento anche a Roscigno Vecchia, circa un anno fa la caduta della casa di Dorina, com'è globalmente la situazione? Attualmente la situazione è questa, che grazie a Dio la sovrintendenza ha approvato in via definitiva il progetto esecutivo. Abbiamo fatto un primo intervento di cernita dei materiali di messa in sicurezza delle case vicine, adesso abbiamo un progetto esecutivo. Penso che adesso, fra qualche settimana, qualche giorno, possono iniziare i lavori per il completamento della facciata. Noi invece stiamo lavorando anche su un altro versante, quello dello studio del discesso idrogeologico a Roscigno, che come ben sapete Roscigno rappresenta un caso, un caso importante per quanto riguarda la frana. Roscigno è un paese che cammina, è stata messa a trasferimento, per cui ci sono alcune preoccupazioni, alcuni punti che danno qualche preoccupazione. Allora, già nel 2010 fu firmato un protocollo d'intesa tra Parco e l'autorità di Bacina e quant'altro. Oggi, anzi proprio stamattina, è partita una lettera all'assessore Cosenza e a tutte le altre autorità, di voler dare esecuzione, attuazione a quel protocollo d'intesa. Noi lotteremo per questo. Penso però che la sensibilità del professore Cosenza ci possa aiutare agevolmente in questo lavoro. C'è anche un'altra idea, se non sbaglio, formulata proprio in una delle ultime sedute di consiglio, quella relativa ad un'idea di fare un'unione di comuni. Non l'unione di comuni, che diciamo che se nell'ambito dell'aggregazione di servizi sono previste le convenzioni di funzioni associate, la legge ne obbligava a Mimino a Tre, poi ci sta questa cosa iniziale, poi ci sta l'unione dei comuni, che è un fatto intermedio, che tende poi alla fusione dei comuni. Io penso che bisogna necessariamente parlarne senza pregiudizi. Di qui la mia proposta personale di far discutere il mio consiglio comunale su questo preciso argomento è la speranza che anche altri comuni incominciano a discuterle senza poi particolari pregiudizi nei confronti di questa nuova formula associativa, innovativa. Ma che penso secondo me è inevitabile. Quindi il consiglio comunale di Roccigno sarà chiamato a discuterne. Ci metteremo intorno a un tavolo e incomincieremo a discutere per far sì che ci siano conseguiti anche risparmi di spesa, ma anche un po' di più di efficienza e di efficacia nell'azione amministrativa, per combattere alcuni sprechi della pubblica amministrazione, tra virgolette perché il Comune, perché i comuni penso che siano i più oculati in queste scelte, perché sono i più controllati, voglio ribadirlo, e non abbiamo, diciamo così, timore di essere smentiti sul controllo che noi abbiamo puntuale e preciso, uno, da parte dei cittadini, due, poi da parte degli organismi di controllo e di verifica. Quindi diciamo che il 2014, anzi l'inizio del 2014, per quanto ci riguarda, oltre ai problemi legati ai problemi amministrativi della nostra comunità, vorremmo mettere in discussione il tema della fusione dei comuni, perché occupa anche spazio nella finanziaria di quest'anno.